...e far salire la squadra soprattutto sulle corsie esterne. ...e va sulla fascia, un po' defilato ma chiude molto bene sul secondo palo, Frey non ci può fare nulla. Bellissimo gol di Jiménez. Decimo minuto, Inter in vantaggio, ha segnato proprio Luis Jiménez, l'ex giocatore della Fiorentina. Primo gol per lui in campionato...